Il centenario di Guido Montauti avrà un altro momento importantissimo di questa mostra itinerante a Pietracamela con il recupero delle pitture rupestri. Sì, è proprio il caso di parlare di percorso, così come abbiamo detto, dando significato alla esposizione generale, percorso di creatività. E questo percorso ha un suo momento, un punto fermo, un punto significativo, un momento molto importante proprio nelle pitture rupestri di Pietracamela che costituiscono una fase nella ricerca continua che il nostro artista ha rispetto a forme e colori, un momento fondamentale perché mentre l'estattismo si andava affermando col suo movimento Guido Montauti ribadisce invece l'importanza di un figurativismo che non è imitazione della natura ma è sostanzialmente utilizzo della pietra, della roccia, sulla quale questi colori a modi antissime, pitture rupestri, imprimono il proprio messaggio. Ed è un messaggio forte, un messaggio significativo che coniuga l'arte e la natura, il paesaggio, quella natura e quel paesaggio che sono nelle radici del nostro artista.